Ben ritrovati da Simone Nardone, un nuovo appuntamento con il Giornale Radio. Grave incidente stradale a Formia nel primo pomeriggio di ieri nella frazione di Vindicio che ha costretto anche all'intervento dell'eliambulanza. Secondo le ricostruzioni, tre sarebbero feriti. Il sinistro è avvenuto in prossimità dell'incrocio per Itri, in direzione di via Canzatora, ad essere coinvolti un'automobile e un mezzo a due ruote. Su quest'ultimo pare viaggiasse anche un bambino rimasto apparentemente quasi illeso. Sul posto i sanitari del 118, i colleghi dell'eliambulanza Pegaso, nonché gli agenti del commissariato di polizia, il personale della polizia locale e gli uomini della Guardia di Finanza, riscontrati ovviamente disagi anche alla circolazione. Dopo il crollo della mattina del primo maggio, ieri pomeriggio ha riaperto la galleria Capovento, situata a lungo la strada Flacca, a confine tra Sperlonga e Gaeta. Il traforo era stato chiuso d'urgenza intorno alle nove di domenica, a seguito del crollo improvviso di una parte dell'impianto di illuminazione. La chiusura della strada è servita a mettere in sicurezza la galleria e a compiere i controlli di routine dopo quanto accaduto. La Vis Fondi Femminile di Calcio A5 domina il proprio girone di Serie A2 andando a conquistare quel sogno coltivato per anni. Nella prossima stagione, infatti, la formazione rosso-blu militerà nel massimo campionato di categoria a livello nazionale, ovvero la Serie A Elite. Il successo è stato conquistato con un turno di anticipo nella giornata del primo maggio quando, per festeggiare il successo sportivo in città, sono partiti anche dei caroselli e delle sfilate. Giovedì l'apertura della mostra a Scauri di Minturno dal titolo Il mare, i colori, l'amore. Nella giornata di venerdì l'inaugurazione, poi con un evento speciale, per l'occasione abbiamo raccolto le parole di uno dei due artisti in esposizione, ovvero Angelo Ionta in arte, Asli. Ascoltiamo la sua voce. Abbiamo organizzato a Scauri, dal 5 al 12 di maggio, una mostra pittorica. Io e l'altra pittrice, Filomena Vezza. La location è una bellissima location perché si tratta del Lido del Sole, il Wave, e l'inaugurazione avverrà il venerdì 6 maggio alle ore 19. Durante questa occasione avremo la dottoressa Marianna Rossi, poi ci sarà lo storico e critico d'arte Massimo Padrone Griffi, che presenterà gli artisti e le opere, e poi ci sarà la dottoressa Donatella Serau, che provvederà a commentare e a consegnare due dipinti, uno al colonnello Ercole Fragasso, per quanto fatto a suo tempo, e poi un altro dipinto verrà donato al dottor Angelo Borrelli, già direttore della protezione civile, con notevoli interventi su tutto il territorio nazionale. Questa era la nostra ultima notizia. Un saluto da Simone Nardone a risentirci alla prossima edizione del giornale Radio Locale.